la sofferenza non è facile da accettare si sa ma tutti i grandi mistici che ci hanno preceduto di cui parecchi sono stati canonizzati sono assolutamente concordi nell'affermare che la sofferenza vissuta sulla terra è comunque una forma di misericordia in quanto le sofferenze del basso purgatorio spesso sono molto aspre in particolare mistici come San Pio da Pietrelcina, Natuzza Evolo, Maria Simma e molti altri hanno affermato che le sofferenze connesse alle malattie specialmente nel periodo che precede la morte sia delle persone che muoiono giovani sia di quelle che muoiono in età avanzata abbrevia e allevia di molto le sofferenze che dovrebbero poi essere patite in purgatorio inoltre come sappiamo le sofferenze terrene sia fisiche che morali in molti casi consentono addirittura di scampare l'inferno si ricordi a questo proposito che l'inferno è citato nel Vangelo ben 40 volte che che ne dicano i modernisti non a caso il grande San Paolo un santo ardimentoso che non aveva peli sulla lingua ebbe a dire in uno dei suoi scritti è per la vostra correzione che voi soffrite questo è piaccia o meno